La maggior parte dei liberi professionisti e degli imprenditori ha un problema di cash flow e questo trasforma i loro più grandi sogni imprenditoriali in veri e propri incubi. Addirittura, come ho detto più volte nelle pillole, ci sono persone che affermano che aver aperto la partita IVA è stato il più grande errore della loro vita. E tutto questo perché semplicemente non avevano abbastanza soldi, non guadagnavano abbastanza o i problemi che avevano non giustificavano il guadagno che ne ottenevano. Ora, esiste una soluzione a questo. Una delle tante strategie è quella dell'abbonamento. Te ne ho parlato più volte, molti business hanno la possibilità di creare delle offerte in abbonamento e questa ha una serie di vantaggi enormi che non possiamo sottovalutare. E questo non solo si pone come soluzione i problemi di cash flow, ma trasforma anche proprio il modo in cui interagiamo con i nostri clienti e andiamo a creare una fonte di reddito costante e soprattutto prevedibile. Allora, come possiamo fare per creare questa offerta in abbonamento? Il punto numero uno è che dobbiamo concentrarci su un prodotto o un servizio che può essere facilmente trasformato in un'offerta in abbonamento. Dobbiamo fare in modo che sia qualcosa di valore e di necessario per i nostri clienti e per qualcosa che sarebbero disposti a pagare regolarmente. Ovviamente tutti quei business nei quali il cliente torna in maniera costante sono sicuramente facilitati, ma ci si può sbizzarire con nuove idee e trovare soluzioni anche in mercati un pochino più statici. Dobbiamo poi creare un prezzo attraente perché il prezzo deve essere non solo vantaggioso per noi come imprenditori, ma deve esserlo anche per il cliente. Quindi dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra il prezzo che ci permette di avere una buona marginalità e un'offerta che sia effettivamente irresistibile per il cliente. Dobbiamo poi comunicarne il valore perché dobbiamo spiegare chiaramente ai clienti i benefici che ottengono con questo abbonamento. Quindi dobbiamo mettere in evidenza il come questa formula possa risolvere i loro problemi o le loro esigenze al meglio rispetto a un pagamento unico o di transazioni ripetute. Per cui una persona che viene da te a tagliarsi i capelli tutti i mesi bene e paga singolarmente che vantaggio può ottenere nel fare un abbonamento studente un'offerta che dia vantaggi a te e dia anche vantaggi al cliente. Inoltre dobbiamo curare il rapporto con il cliente. Questo ovviamente vale per qualunque tipo di business, non solo quelli in abbonamento, ma sfruttando il modello di abbonamento possiamo utilizzarlo veramente come un'occasione per costruire e mantenere un rapporto più duraturo e più forte, una relazione più stabile. Quindi possiamo offrire loro attenzioni speciali, aggiornamenti, vantaggi esclusivi. Insomma dobbiamo rendere questo abbonamento dal loro punto di vista ancora più prezioso. Con questo approccio se riusciamo a metterlo in pratica possiamo trasformare quello che di fatto è un problema di cash flow in realtà in un'opportunità di crescita, di fidelizzazione del cliente e di pianificazione economica. Quindi non aspettare di avere eventuali problemi di liquidità ma agisci subito. Quindi inizia a pensare subito a quale può essere la tua formula di abbonamento e proponila ai tuoi clienti. Se riesci a metterlo in pratica il tuo business letteralmente esploderà. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, per trovare delle idee su come trovare il tuo modello in abbonamento anche se al momento non ti viene in mente nulla, ti consiglio il libro di John Warilow, Il Cliente Automatico. È un libro che ho già recensito, credo oramai diversi anni fa, un libro che mi ha colpito tantissimo perché ci sono un sacco di soluzioni innovative che solitamente non si pensano eppure sono incredibilmente efficaci. Quindi se hai difficoltà nel trovarlo è una lettura che assolutamente ti consiglia. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!